Una terapia con cellule staminali per capire fino a dove possono arrivare i progressi di recupero integrativo di un bambino autistico. Una terapia che è il desiderio della famiglia Fanese Garulli, il desiderio di Bettina e Nicola, genitore di Riccardo, un bambino autistico di 10 anni che dopo essere stato seguito da tante cure tradizionali ha cominciato a riscontrare notevoli progressi una volta sperimentate nuove terapie specialistiche attualmente non percorribili in Italia. Cure costose che la famiglia Garulli vuole provare a sostenere appellandosi ad una comunità solidale attraverso una raccolta fondi. Abbiamo in questo caso pensato di aiutarlo attraverso delle terapie definite staminali perché si utilizzano delle cellule appunto staminali che possono aiutare a ricostruire il sistema nervoso alterato di Riccardo e queste terapie sono purtroppo in Italia non sono riconosciute e perlomeno non utilizzate nell'autismo. Ci sono ad esempio alla clinical, Swiss Clinica Medica, appunto con la sede legale a Lugano ma con la clinica proprio dove effettuano queste terapie sia a Belgrado che a Musca. È partita così una raccolta fondi sulle portale GoFundMe per aiutare a sostenere cure che costeranno circa 20.000 euro a ciclo, come quelle iniziali che la famiglia Garulli si sobbargerà a Belgrado dal 25 giugno al 6 luglio. Noi purtroppo ci rendiamo conto che queste terapie sono molto care e nella nostra condizione di persone normali non siamo in grado diciamo di affrontare una spesa come quella che ci è stata proposta perché non è che sarà effettuata una volta sola ma sicuramente saranno più terapie magari il prossimo anno e gli anni futuri perché gli effetti sono molto positivi però ecco essendo già Riccardo un bambino grande sicuramente sarà necessario ripetere queste terapie per consolidare e migliorare un attimino tutto l'effetto che avremo dal punto di vista medico proprio ci sono dei risultati positivi sul sonno sulla comunicazione verbale anche proprio sulla sull'essere più tranquillo più adeguato per quanto tutto il lavoro che noi abbiamo svolto in questi anni ha portato ad essere un bambino estremamente adeguato in grado di scrivere ad esempio al computer tramite un aiuto essere un bambino in grado di poter essere autonomo e adeguato a una vita che oggi oggigiorno diciamo difficile già come dicevo appunto per un bambino neurotipico e quindi a maggior ragione per un bambino autistico e questo è quello che noi ci proponiamo e chiediamo quindi un aiuto a chi vorrà ecco venirci incontro economicamente perché le cure costano veramente tanto